Salve, buongiorno, Cobrax Mami per voi. Stiamo arrivando in Spagna, a Barcellona. Comincia ad alpeggiare, come potete vedere, e questa è la visuale della palestra della nave. Dopo aver assistito all'intro della Cobrax Mami, possiamo goderci questo arrivo a Barcellona. Giulio, che cosa si può dire di questo arrivo a Barcellona? It's ok. Eccoci qui, siamo in bus, direzione Barcellona 5. Ragazzi, guardate quanti zumos, cioè, guardate quant'alato di cibo c'è in questo posto. Abbiamo le uova e il carissimo pulcino. Poi qua, ovviamente, non manca anche il cocco, oddio che brutto. E abbiamo un po' di Grimmie Shake Stratissimi con la frutta. E ora abbiamo una squintalata anche di caramelle. Guardate quante caramelle. Ora assaggeremo queste caramelle. Guardate che belle quelle. Cioè, ragazzi, guardate che prosciuttazzi assurdi. E questo pesa tanto. Cocodrillo caramello. Cioè, guardate che carica, pure maglialino. Ok, abbiamo preso il mix di caramelle. Adesso lo andremo ad assaggiare. Ragazzi, abbiamo il cocodrillo caramello. Ok, ragazzi, ora si chiama la coda che tanto gli ricresce. Sa di cocodrillo. Cioè, ragazzi, in realtà fa un po' schifo quella roba. Il cocodrillo mi dispiace, ma fa schifo. Ragazzi, guardate qua. Abbiamo l'official store del Barcellona Core. Andiamo a vedere. In realtà è troppo bello per entrarci. Ma non si sa perché c'è anche lo store del Real Madrid a Barcellona. Guardate che belle queste qua. C'è pure il Bernabé. Sì, ma è real? Poi c'è la Champions League. Assurdo. Di chi sono ste scarpe, poi? E poi qua c'è la maglia firmata. Abbiamo un altro negozio bellissimo. Ora pausetto della Lebbaretto. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Ragazzi, oh mio Dio. Abbiamo appena pagato delle maglie. Io ho preso la maglia del Real Madrid. Quindi è pure real. Guardate, c'è la maglia di Blue Slig. Pagata 25 euro da questo simpatico signore. Quindi, nuova challenge. Andare a Barcellona con la maglia del Real Madrid, ragazzi. Ragazzi, guardateci un altro store del Barcellona. E noi siamo qua con la maglia del Real Madrid Assurdo. Cioè, si trova la maglia dell'Inter a Barcellona e non quella della Juve che l'Inter fa schifo. Unboxing scarpe ginnastica del patato. Ragazzi, mi sto materializzando anch'io adesso. Mi sto un po' confondendo. Questa è la panda, che bello. Ragazzi, siete curiosi di vedere cosa abbiamo comprato? Allora, adesso ve lo faccio vedere. Ragazzi, vi presento Shrek. Guardate come caga. Lo salutiamo e andiamo via. Ragazzi, abbiamo appena trovato un posto di balneazione dove poter fare il mare. Ragazzi, 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 ragazzi. Ragazzi, 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 ragazzi. Ragazzi, 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 ragazzi Grazie a tutti. Grazie a tutti.